Parliamo di ricomposizione corporea a 40 anni. Perché tra l'altro questo argomento? Allora, perché fondamentalmente le persone che da questi oltre 12 anni all'eleno per la maggior parte hanno avuto più di 40 anni, ok? Vedete tra i 40 e i 55 circa. Poi ci sono tutte le gestioni del caso, principalmente se parliamo di uomini, il mio allievo tipo di questi anni è il classico longilineo magro che accumula prevalentemente sull'addome. Detto anche argainer, ectomorfo, falso magro, perché appunto se lo vedi vestito sembra magro, ma se poi vai a vederlo in pantaloncini, ha il classico accumulo adiposo sull'addome, quindi un'alta percentuale di massa grassa. Mentre per quanto riguarda le donne, per di più la donna che accumula classicamente liquidi dalla vita in giù, quindi la classica donna ginoide, ok? Però tutti e due, come ti ho detto, hanno come minimo comune denominatore che hanno 40 anni o più, ok? Detto questo, andiamo a vedere cosa vedremo oggi in questa lezione. Vedremo, innanzitutto la fisiologia, come cambia dai 20 ai 40 anni. Fondamentale questo. Spesso uno diciamo che si allena a 40 anni come si allenava a 20 e che la metodologia di base e i principi sono più o meno gli stessi, però è logico che bisogna tenere conto della variabilità ormonale, biochimico e fisiologica, ok? Andremo a vederlo per bene, quindi cosa cambia. Poi vedremo i tre punti cardine della metodologia di allenamento 40 anni, che attenzione, sebbene i principi, come dicevo, di allenamento sono gli stessi, dovrò andare a calibrare il mio allenamento su dei principi cardine diversi, perché l'età è diversa, ok? Poi mi raccomando, se hai domande e ti vengono domande, scrivi tranquillamente qui sotto nei commenti e ti rispondo molto volentieri. Poi avanti, vedremo anche un esempio di scheda palestra di due volte a settimana, quindi ti faccio proprio un esempio, ok? Poi magari ti farò capire anche come adattarlo se per esempio ti alleni a casa. Però faremo proprio un esempio, in modo che tu abbia chiaro e tondo il tutto. Poi andremo a vedere come abbinare l'alimentazione, in particolare tre strategie alimentari sostenibili da abbinare. Anche questo è un punto fondamentale. Sai benissimo che noi siamo quello che mangiamo. Quindi è importante che il modo in cui andremo a mangiare sia sostenibile. Non deve essere uno stress, una forzatura. Ogni giorno devo dire, oggi devo prepararmi da mangiare questo, quello, che due palle. No. Deve essere fatto bene. Poi andremo a vedere anche l'integrazione. Che anche questa può essere importante. Ti farò vedere quattro integratori utili a quarant'anni. Ok? Logicamente io ti dico tutto. Poi sei tu che decidi come sempre. Il mio scopo è solo quello di condividere e di informarti. Andiamo avanti. Vedremo un caso studio che ho avuto un allievo che si è allenato con me. Andremo a vedere in quattro mesi con il percorso Formula Ectomorfo che sei stato in grado di ottenere. Ok? E alla fine andremo a riprogare e vedremo un po' quello che abbiamo visto. Ok? Mi raccomando se sei nuovo sul canale e non mi conosci velocemente dico. Sono Mattia Babetto. Faccio il personal trainer da oltre 12 anni che mi allena molto di più. Comunque ho fatto prima il percorso di studi in scienze motorie. Poi mi sono specializzato uno in riprogrammazione posturale, allenamento funzionale e ultimo calisthenics nel corso degli anni. Soprattutto la specializzazione è avvenuta nel nord Italia. E oggi faccio questa mia attività prettamente online. Seguo a distanza ma perché una volta lavoravo nelle palestre soprattutto prima della pandemia. Poi diciamo che la pandemia è stata un po' una forzatura barra occasione per mettere il mio sapere online e riuscire a seguire le centinaia e centinaia di persone che hanno la volontà di migliorare anche migliaia aggiungerei un po' in tutta Italia. Ok? Quindi lo faccio ormai da 5 anni. Sto dicendo lo facciamo perché non sono da solo. Sono affiancato da altri ragazzi. Collaboro con... probabilmente se sei dall'ambiente conosci Umberto Viletto. Comunque collaboro con lui da 4 anni. Ho scritto quasi... forse ho dato anche oltre i 400 articoli più un canale YouTube. Questo qua molto grande. Sono quasi 700 video. Quindi mi raccomando se ti interessano gli argomenti di crescita in quello che è l'allenamento, allenarti bene, mangiare bene il tutto in modo sostenibile iscriviti al canale. Ogni settimana escono almeno 5 nuovi video. Sto cercando di metterne anche di più perché capisco che sono utili le cose che andiamo a trattare. Magari anche tu lascia un commento sotto. Dimmi un po' quelli che sono i tuoi dubbi. Cosa vorresti vedere. Ti faccio veramente un video molto volentieri. Io ascolto molto la community qua su YouTube perché il canale è dedicato a voi fondamentalmente. Quindi fai le domande, scrivi e rispondi molto volentieri. Ok? Vai. Partiamo. Allora, vediamo quindi. Come cambia il corpo dai 20 ai 40 anni? Beh, sicuramente c'è un calo fisiologico dei livelli plasmatici di testosterone e gli altri ormoni rivolgi. Ora, tu sai che per mettere massa muscolare, quanto riguarda soprattutto noi maschietti, anche le donne hanno il testosterone, che è chiaro, è circa 10 volte minore di un uomo. Questo è il motivo per cui le donne, anche se si tirano tantissimo, è impossibile che mettano su dei grandi volumi di massa muscolare. Quelle donne che vedi con grandi volumi muscolari e perché si doppano. Questa è una verità assoluta. Ci possono essere casi di una genetica favorevole e estrema, ma sono rarissimi. La maggior parte è perché prende delle sostanze. Quindi stai tranquilla, allenati con i piedi perché va bene. Poi se vai a vedere sul canale il perché è molto chiaro per il discorso della compartizione degli alimenti. Però vabbè, non ci dilunghiamo, rimaniamo qua. Quindi dicevo, dopo i 40 anni i livelli di testosterone è il terosterone cauno. Ormone, questo è il terosterone principale, ormone anabolico maschile responsabile della crescita muscolare. Se andiamo a vedere la letteratura scientifica, però si è visto che se tu sei una persona sana, ti alleni costantemente a uno stile di vita attivo, quindi ti alleni almeno con le tre, quattro, cinque volte a settimana, almeno tre quarti d'ora? Allora, fino ai 60 anni hai buonissima probabilità di mantenere più o meno invariati questi livelli ormonali. Poi con l'invecchiamento, dopo i 60 anni c'è proprio un calo drastico. Quello è purtroppo inevitabile. Ok? Quindi, se vai a mettere massa muscolare, dopo i 40 anni anche per questo motivo. Però c'è modo di lavorarci, tranquillo. Poi c'è una perdita di densità minerale e ossea. Questo processo riguarda soprattutto le donne dopo la menopausa. Fatte le donne dopo la menopausa, è facile che vadano incontro osteoperosi, perché con la gestione del ciclo mestruale c'è un calo degli ormoni che prima proteggevano la donna, quindi aveva una densità ossea protetta. Dopo la menopausa questi ormoni vengono meno, quindi gli estrogeni vengono meno e c'è una ridotta densità ossea appunto delle donne. Questo caso può riguardare anche gli uomini, è più difficile, però sappi che l'attività contro resistenza, e non intendo l'attività cardio, ma quella con i pesi o fatta a corpo libero, va a stimolare la risintesi dell'osso. Oltre alla massa muscolare, noi sappiamo che i muscoli sono ancorati sull'osso, quindi stimola una risintesi ossea, quindi fondamentale allenarti con i pesi soprattutto dopo i 40 anni. Ok? È ancora più importante per le donne dopo la menopausa. Avanti! Poi c'è un calo anche della capacità aerobica. Cosa vuol dire? Capacità aerobica, te lo traduco in termini semplici, è il... dopo che cammini per un po' o corri comunque il fiatone. Perché? Perché c'è un leggero calo anche del corretto mitocondriale. Quindi la tua capacità aerobica, la capacità di portare ossigeno ai tessuti, diminuisce. Ovviamente questo, come ti dicevo all'inizio, lo si può contenere tantissimo con un giusto allenamento tra i 40 e i 60 anni. Dopo i 60 anni c'è un declino inevitabile. Quindi è importante anche l'allenamento aerobico. Se guardi, apri una piccola parentesi, se guardi sul canale, troverai diversi video. C'è anche un bel video specifico, proprio nella lezione, se non sbaglio, di 15 minuti che ho fatto, sull'ectomorfo, classico soggetto, il longivineo, magro, che accumula sull'addome, detto anche Artgainer, Skinny Fat, falso magro, e il falso mito che è sbagliato fare cardio. È una cavolata pazzesca, era detta negli anni 70, perché si pensava che l'ectomorfo... Cioè, è vero che ha un metabolismo e riposo molto alto, però non vuol dire che non debba fare cardio, attenzione, come vedi da quest'ultimo punto, invece, è molto, molto, molto importante. E poi ha anche dei benefici se ti allinei con i pesi. Comunque, non è argomento del video, ti rimando al video. Cardiotomorfo, magari te lo linko, così lo vai a vedere. Andiamo avanti. Altro punto, diminuzione della sensibilità insulinica. Ricordati bene questo termine, che tornerà molto in questo video, ma in generale nei video che faccio, perché è un punto cruciale, e accumulo, quindi, di gherossio dominale. Sensibilità insulinica, velocemente. Che cos'è? È la capacità delle tue cellule di captare l'insulina. L'insulina è un ormone che regola la glicemia, soprattutto dopo che mangi, dopo un pasto, viene secreta dal pancreas. E le tue cellule, se non riescono a captare l'insulina, quindi far entrare il glucosio dentro la cellula, è un casino, anche dal punto di vista della crescita muscolare. Anche qui ho fatto un bellissimo video sulla resistenza insulinica e la resistenza all'anabolismo, tipica degli ectomorfi, degli Ergainer. E, oltre a questo, una ridotta sensibilità insulinica determina l'accumulo del grasso addominale. Te lo dico già, forse l'hai già capito. Lo skinny fat ha un'alta resistenza insulinica, anche un po' per natura, ma con l'alimentazione, in particolare con la chetogenica e la low carb, ci si può lavorare. Resistenza insulinica, che è l'opposto della sensibilità insulinica, porta all'accumulo di grasso addominale. Quindi, abbiamo, come detto nell'ectomorfo, resistenza all'anabolismo, non cresco, non metto massa, però con la pancetta. E questo è per la ridotta sensibilità insulinica. Te rimando anche qui, magari te lo linko, il video, ectomorfo, resistenza all'anabolismo e resistenza insulinica. Ok? Avanti! Quindi, tre punti cardine della metodologia di allenamento. Allora, come abbiamo detto prima, i principi di allenamento base sono uguali per tutti. Valgono a 20 come 40 anni, ma i principi basilari, se andiamo nello specifico, a seconda dei problemi che abbiamo visto, la situazione caratteristica della persona che ha 40 anni, e, purtroppo, chi più chi meno, tutti ci cadono dentro, perché la fisiologia è normale. Ma ci sono delle soluzioni che spesso non ci dicono. Cioè, vai in palestra, quello che ti dicono, lo so bene perché ho lavorato molti anni in palestra, e, ah, ok, che obiettivo hai? Va bene, allora, ecco la schedina, ti danno la schedina prefatta. Non tengono conto di niente. Se vuoi l'anotrizionista, qualcuno non l'offre. Chi l'offre, devi pagarla tanto in più, 100 euro, 150 euro in più. Ok? Mentre, se vogliamo personalizzare fin da subito il tutto, ti conviene sapere queste cose. Allora, il primo punto è allenamento della forza. Per quanto riguarda l'aspetto neurale, la sintesi proteica è recupero. Ascolta bene che questo è fondamentale. Vale soprattutto per soggetti artigener. Allora, allenare la forza per l'allenamento della forza. Ci intende stare sulle 8, 6 o anche meno ripetizioni, quindi carichi più elevati. Allora, l'aspetto neurale perché? L'allenamento della forza coinvolge ampiamente il sistema nervoso. Soprattutto i multiarticolari. Se vai in palestra, sono la panca piana, squat, stacco, trazioni, military e altri esercizi. Questi qua hanno un alto coinvolgimento della coordinazione intramuscolare oltre a quella extramuscolare. Quindi vai a lavorare molto sull'aspetto neurologico. Ok? Poi due sulla sintesi proteica. Abbiamo visto che dopo i 40 anni c'è un calo fisiologico di testosterone. Come vai a contenerlo? Bene, lavorando con i pesi carichi sul diciamo 75-80% di un RM vai a lavorare a stimolare la sintesi proteica cioè di massa muscolare in poche parole. E' importantissimo spesso, sottovoltato, ignorato e recupero. Recupero inteso sia come recupero recupero tra una serie e l'altra ma anche recupero inteso come mangiare bene dormire quello si spollinio dormire la maggior parte delle persone dorme 4-5 ore a notte 6 ore se va bene perché magari fa una vita impegnativa e devo dirti c'è stato anche da parte mia un periodo della mia vita quando ho iniziato che siccome il lavoro amo molto quello che faccio si è portati a prendere tempo togliendo lo sonno e ma questo dal punto di vista fisiologico purtroppo porta dei danni incredibili bisogna dormire almeno 7-8 ore a notte per estilare i processi ormonali per poi andare su per compensare e crescere muscolarmente è possibile è possibilissimo io oggi faccio tre volte più di quello che facevo anche solo 5 anni fa 6 anni fa ma ho un volta più tempo libero questo perché occorre imparare a pianificare e organizzarsi come c'è la metodologia dell'elemento c'è anche la metodologia per organizzare la propria vita gestione del tempo eccetera comunque non è argomento del video poi andiamo avanti allenamento ipertrofia funzionale che cosa vuol dire ipertrofia funzionale cioè che tu non fai ipertrofia non gonfi il muscolo solo perché devi gonfiarlo cioè il tuo compito a meno che tu non vogli fare bodybuilder non è quello di andare sul palco far vedere il bicipite la schiena e tutto quanto ripeto a meno che tu non lo scelga ma la maggior parte dei casi lo facciamo perché vogliamo per i belli stare in forma stare bene in salute funzionale come dice un termine cioè quel volume muscolare che tu ottieni è perché ti deve essere utile quindi va da sé che se tu ti alleni in modo funzionale cioè il muscolo che metti su serve al tuo organismo per supportare uno sforzo uno stere di vita eccetera è molto più facile raggiungere l'ipertrofia e crescere ok questo ovviamente si basa sulla variazione dello stimolo nel programma che ho apriamo parentesi fisico nei programmi andiamo a cambiare metodica di allenamento ed esercizi in vedimento ogni 4 5 settimane proprio per rispettare questa variazione dello stimolo poi si deve essere una periodizzazione cioè prendo l'esempio della palestra vai in palestra ti ha la scheda la tieni 5 6 8 10 12 settimane dipende anche qua non c'è un tempo fa molto a casaccio se va bene poi la cambi te la cambiano un po' ma se va bene ma te la cambiano così scusa passami la parola te la cambiano ad cazzo proprio cioè non guardano un minimo di periodizzazione ma perché perché ovviamente non hanno tempo cioè le palestre i grandi catene ci concentrano sulla quantità la qualità che se ne frega io butto dentro più persone possibili poi gli faccio fare qualcosa ma sicuramente non sto a periodizzare perché non c'è tempo ok cioè è molto semplice sono molto onesto ti ripeto ci ho lavorato tanti anni anch'io più di 6 anni so come funziona l'istruttore è lì per far presenza dire ah no ma lì tieni giù le spalle ah no ma lo spot vai più giù basta massimo sta al tornello vedi gli abbonamenti poi da palestra a palestra cambiano le cose comunque altro argomento bypassiamo e poi la nutrizione ovviamente la tua nutrizione deve essere di supporto se vuoi fare massa muscolare è così la scienza lo dimostra serve un'alimentazione ipercalorica quanto ci ho fatto un video valla a vedere qua sul canale vi spiego proprio i 4 step per andare a far massa dal punto di vista alimentare poi andiamo avanti allora allenamento mitocondri come ti dicevo prima dopo i 40 anni c'è un calo di quello che è il corretto mitocondriale quindi come faccio ad allenare mitocondri beh con l'esercizio aerobico intelligente c'è un tipo di esercizio soprattutto il lice a bassa densità che va a fare ad aumentare la quantità di mitocondri se aumenta la quantità di mitocondri anche il tuo metabolismo è migliore ossidi più grassi ok poi c'è l'esercizio ad alta intensità tipo l'hit l'hit che invece va a migliorare l'ipertrofia alla grandezza dei mitocondri quindi migliorano in performance comunque rimane anche qua un video specifico che ho fatto dove appunto parlo del triangolo salute allenamento mitocondri proprio è una lezione fatta bene anche qua mi sembra che sono 15 minuti circa dove vado proprio a delucidarti il tutto ok andiamo avanti facciamo adesso un esempio di schede da seguire in palestra due volte a settimana allora sei una persona che ha poco tempo sicuramente dovrà allenarti in total body questo ha il vantaggio che ti consentirà di lavorare sul tonnellaggio e andare ad aumentare anche la massa muscolare se tieni certi volumi se sei un principiante ancora di più dovrai lavorare in total body spesso che arrivo in palestra gli si dà la split routine petto non so petto bicipiti cos'è dorso tricipiti gambe e spalle ok questo purtroppo è sbagliato una concezione alla vecchia che va bene per l'atleti intermedi che ha una certa costanza di allenamento se tu sei o principiante quindi neofita o hai poco tempo due volte a settimana da tre quarti d'ora cinquanta minuti devi allenarti in total body se no perdi tempo non hai i benefici che abbiamo visto allora un esempio al momento A ti vai a fare una panga piena con bilanciera quella classica metodica piramidale 12 10 10 8 cosa vuol dire vuol dire che vai a calare le ripetizioni e aumentare il carico vuol dire che farai 12 ripetizioni con un carico recuperi un minuto aumenti leggermente il carico fai 10 ripetizioni recuperi un minuto e aumenti ancora il carico ne fai 8 ecco ripeti la stessa cosa per lo squat come lancera trazione alla sbarra o la machine se vuoi step up alzata laterali questo qui è un mono articolare e alla fine vai a fare un lavoro specifico sull'addome crunch e crunch inverso in super serie ora nota come in questa scheda torna quello che dicevamo il lavoro sulla forza e sull'ipertrofia con multi articolari che quindi stimolano il sistema nervoso hai un lavoro a livello neurale con il multi articolare lo fai molto ripetizioni le ripetizioni sono ottime per andare a lavorare il trofismo muscolare anche l'ipertrofia se poi è accompagnato con l'alimentazione ma anche l'aspetto cardio ma il cardio in questi protocolli tipicamente va fatto alla fine quindi quello che potresti fare è andare a farti alla fine 20 minuti su da brulà incamminata veloce corsetta se preferisci ciclette vogatore elliptica ok così lavori anche sull'aspetto mitocondriale poi sai quello che sto dicendo su molte cose se vuoi una programmazione personalizzata vuoi essere seguito qua sotto in descrizione trovi il link del mio programma formula ectomorfo un programma personalizzato dove lavoriamo su dieta allenamento c'è l'opzione sei mesi tre mesi o anche un mese in modo intensivo perché l'obiettivo è darti gli strumenti per renderti autonomo certo il primo mese è molto costa molto lo so bene ma perché l'obiettivo è c'è un grande impegno anche di tempo da parte mia perché l'obiettivo è renderti autonomo nei mesi successivi avrai comunque il tuo programma di allenamento ma sei molto più autonomo perché in questo mese intensivo hai imparato quelle che sono le basi hai sempre l'assistenza da parte mia o di un membro del mio staff ma comunque sei più autonomo quindi molto meno tempo sia da parte tua che da parte mia poi andiamo avanti qua sotto comunque trovi il form per prenotarti se vuoi capire meglio come funziona allenamento B segui gli stessi principi avrai lento con bilanciere stack con bilanciere sempre con la metodica piramidale il rematore con bilanciere un complementare ancora per le gambe leccarle fly per aprire le spalle poi se ti ricordo non conosci qualche esercizio cerca sul canale trovi tutorial mi raccomando e poi un lavoro finale sull'addome sembri in super serie se poi vuoi ci vai ad aggiungere il cardio alla fine ok domande dubbi lascia un commento sotto ti rispondo volentieri anzi magari ci sgiro proprio un altro video perché magari il tuo dubbi la tua domanda può essere sicuramente utile anche per altri che magari non scrivano perché timidi però tu che magari sei più estroverso hai più coraggio lascia il commento qua sotto ok allora adesso vediamo come affiancare l'alimentazione tre strategie alimentari sostenibili prima bilancio ormonale con proteine e grassi utile approccio dieta ketogenica low carb cosa vuol dire la tua alimentazione soprattutto in una prima fase se hai un po' di grasso addominale hai gli addominali appannati vuol dire che sei in una condizione di resistenza insulinica cosa vuol dire vuol dire che il tuo corpo non è sensibile all'insulina quindi hai due effetti negativi uno che il tuo corpo tende a virare i nutrienti tipo se fai un pasto con una fonte proteica carboidratica e grassi metti un piatto di pasta col tono per intenderci il tuo corpo va a virare i nutrienti alle cellule adipose quindi alle cellule grassi se hai resistenza insulinica questo vuol dire che accumuli grasso come dicevamo prima se hai resistenza insulinica hai anche resistenza all'anabolismo perché ti ricordo che l'insulina è il principale ormone anabolico non è il testosterone come tanti dicono quello è importante ma prima ancora l'insulina se le tue cellule muscolari il mio cita non capta bene l'insulina tu non riuscirai a fare massa non riuscirai a crescere muscolarmente questo è il motivo perché molte persone rimangono magre nel caso di ectomorfo o comunque sono endomorfi non mettono massa non crescono ma ingrassano perché che il muscolo non ha lo stimolo primario hai voglia mangiare ma se i nutrienti vanno al tessuto di pollo tu ingrassi e non metti muscoli in questo stadio è utile un approccio quindi per aumentare la sensibilità insulinica alla dieta chetogenica o allo carb queste sono due diete chetogenica l'apporto di carboidrati è bassissimo al massimo 20 grammi molto lo so è molto rigida come dieta è un protocollo però utile soprattutto se devi vedere 7-10 kg in su perché velocissimamente solitamente in una settimana vai a migliorare la sensibilità insulinica poi dopo c'è un bisogno di un reset metabolico per inserire i carbo e non riprendere i chili persi quindi effetto di iodo e la classica diete dobbiamo evitarlo se invece hai dai 2 ai 5 chili da perdere va benissimo una dieta low carb ok andiamo avanti strategia 2 controllo della glicemia con i carboidrati complessi quello che dicevamo al punto sopra però lo andiamo a enfatizzare se è bene mangiare proteine grassi non troppi carbo perlomeno nel primo periodo poi serviranno per andare a fare massa nel primo periodo per controllare la glicemia bene con i carboidrati a Genvia si usi nella dieta low carb ebbene che siano complessi quindi utili per migliorare la sensibilità insulinica terza strategia la gestione di nutrienti fondamentale bisogna che vaglia ad equilibrare proteine grazie carboidrati nella dieta in cui lo comandi servono tutti cioè non serve andare ad eliminare spesso ai conto producente ripeto a meno che non lo fai in modo programmato per brevissimi periodi quindi è come abbiamo visto il caso della dieta glicogenica che toglie quasi del tutto i carboidrati può essere il caso della paleo ok può essere il caso del digiuno intermittente fatto in un certo modo ma anche alcuni digiuno intermittente per fare massa soprattutto se l'ectomorfo te lo sconsiglio non funziona l'ho provato anche su di me ti ho fatto un bellissimo video vattelo a vedere su digiuno intermittente nell'ectomorfo te lo linko qua sopra quindi gestisci ben nutrienti varia mangia alimenti sempre diversi per quanto possibile consiglio classico che do quando fai la spesa cerca di avere dei colori diversi di verdure o frutta nel carrello in questo modo vai a variare i nutrienti ok l'avrei già sentito sicuramente te lo ridico perché è giusto avanti domande dubbi ricorda commenta sotto sii coraggioso commenta sotto l'altra parte delle persone non commenta perché si vergogna è timida ma però tu che sei più coraggioso scrivi un commento fai vedere si di esempio per gli altri sicuramente la domanda che fai ce l'hanno anche gli altri quindi utile a te utile agli altri vinciamo tutti ok e io come ti dicevo sono qua per rispondere alle tue domande quindi usa questa cosa commenta sotto sii coraggioso allora integratori usi la quarantanmi diciamo che allora in generale l'integrazione se uno mangia bene potrebbe anche non servire certo che dobbiamo essere molto realisti perché tu hai voglia c'è chi oggi dice ah no ma gli integratori non si fanno niente a parte mangiare in modo naturale come faceva l'uomo delle caberne è vero c'è un problema che l'agricoltura che c'è oggi e quindi i prodotti che ci sono cioè nel 99,99% dei casi comunque c'è una agricoltura intensiva i terreni vuoi o non vuoi comunque per il ciclo delle piogge sono contaminati e quindi poi conseguentemente i prodotti le verdure che prendono le sostanze nutritive dal terreno sono cioè non hanno i principi nutritivi che magari avevano un modo completo 40-50 anni fa è un dato di fatto quindi l'integrazione potrebbe essere utile ok in particolare dopo i 40 anni anche per i processi fisiologici insetti nel corpo potrebbe essere utile usarne quattro che sono proteine del collagene proteine del collagene cosa sono? come è già scritto è una proteina fondamentale per la salute delle articolazioni quindi pelle e tessuti collettivi pensano davanti con gli anni andiamo incontro ad artrosi quindi artrosi può ci muovere più lentamente diventiamo macchinosi insomma c'è una fatica incredibile a fare qualsiasi cosa ad alzarci alla mattina che siamo più rigidi perché il corpo in uno stato di down fisiologico è freddo quando stiamo molto seduti e muozzarci quindi è facile che ci venga l'attacco alla schiena poi la cervicale ok le proteine del collagene vanno a rimpolpare le articolazioni ok quindi manca della pelle che la pelle come tu sai più passano gli anni soprattutto se sei un fumatore o comunque stai molto esposto che non so magari ti fai molte lampade non c'è nulla di male va bene anche perché aiuta a stimolare la vitamina D cosa succede la pelle tende a cadere quindi il collagene è fondamentale per le proteine qui del collagene basta che vai in un centro estetico sono mille creme anche qui non è vero che le creme non funzionano dipende dalle creme come le usi certo alcune sono solo delle trovate di marketing non servono niente ma altre sono molto buone e ci sono tanti studi scientifici anche qui se hai domande vuoi consigli vuoi un parere lascia un commento qua sotto avanti integratore fondamentale numero 2 sono gli omega 3 anche qui ho fatto un video molto specifico una lezione di 15 minuti questi sono fondamentali che differiscono dagli omega 6 per la catena ramificata anche dagli omega 9 perché gli omega 3 svolgono un ruolo cruciale nella regolazione delle risposte infiammatorie anche qui cosa vuol dire spesso le membrane cellulari con il passare degli anni tendono a ineboriarsi gli omega 3 vanno invece a rinforzarle a proteggerle come dicevo all'inizio è fondamentale bilanciare bene omega 3 e omega 6 l'alimentazione classica occidentale ha un rapporto omega 3 e omega 6 sbilanciata 1 a 15 questo porta infiammazione ok gli omega 6 li trovi classicamente nelle noci gli omega 3 li trovi soprattutto nel pesce quindi è importante ecco perché si mangia il pesce due volte a settimana a volte sentiamo le cose e non capiamo bene il perché è per questo se non mangi pesce si è visto da uno studio se non sbaglio della Toronto University che integrare come scusa EPA e DHA 2,5 grammi al giorno o non mi ricordo se lo dico in un video o 1,25 o 2 grammi e mezzo è utile comunque ti lascio il video così te lo avrai a vedere a volte dico così tante cose porto tanti contenuti studi che è impossibile ricordarsi ricordarsi tutto è impossibile ecco perché c'è Youtube con la varia playlist mi aiuta ok comunque vado a vedere il video ok integratore numero 3 il coenzimo con 10 ora a volte si sente anche poco il coenzimo con 10 questo è un composto che è coinvolto nei processi mitocondriali nella produzione di energia come abbiamo detto seguimi attentamente quando ci va oltre i 40 anni c'è un deficit mitocondriale che incombe quindi siccome i mitocondri sono delle piccole centrali energetiche del corpo guardate il video mi raccomando cosa succede? tendiamo a sentirsi più stanchi passiamo dal letto diciamo chi me lo fa fai non lo voglio sono stanco è normale è fisiologico è così il coenzimo con 10 va ad arricchire le reazioni mitocondriali quindi a liberare più energia e quindi a darti più vitalità ecco perché il coenzimo con 10 può essere molto molto utile ok andiamo avanti la vitamina D questa sicuramente l'hai sentita importante per rafforzare l'osso l'ho scritto anche qua però dai 40 anni c'è un assorbimento che può essere compromesso ok è vero che la luce solare aiuta ad attivare la vitamina D però come dice il nome attivare invece aumentare l'apporto leggermente poi aiuta anche ad attivarla meglio e quindi assorbirla da parte dell'intestino meglio ok quindi siamo arrivati alla fine anzi no prima c'è il caso studio ok il caso studio ok allora il caso studio che ti porto è di un soggetto ectomorfatrofico classico skinny fat falso magro perché te lo riporto di ectomorfatrofico perché come ti ho detto in questi anni il mio chiamiamolo client tipo allievo tipo in questo caso è il classico soggetto falso magro lo vedi vestito è magro però accumula sulla zona addominale quindi questa persona di 41 anni comunque allenata perché si allenava già due tre volte a settimana aveva un accumulo di grasso addominale ok come vedi vita ho segnato 84 centimetri ovviamente non riesco a crescere muscolarmente quindi il primo passo che abbiamo fatto in questi quattro mesi siamo concentrati per i primi sette giorni pulizia con una dieta che era un mix tra una chietogenica e una low carb come vedi sette giorni perché l'obiettivo era andare ad abbassare la resistenza insulinica quindi migliorare la sensibilità insulinica ricordo che questo ha un duplice effetto quello di migliorare la captazione di glucosio cellulare quindi abbassare anche il livello di grasso dominale perché per il compartizionamento che può sia con l'allenamento importante qui va fatto l'allenamento in questa prima fase soprattutto cardio ma anche con i pesi l'allenamento migliora il compartizionamento nutrizionale dei nutrienti quindi non vanno al tessuto adiposo ma vanno ai muscoli quindi per i primi sette giorni fatti in questo modo seconda fase per 21 giorni abbiamo fatto un reset metabolico cosa vuol dire vuol dire che per evitare il classico effetto yo-yo le diete ancora tipo nella duca ancora succede ti toccano tutti i carbo e certo dimingherisci perché i carbo fanno ritenzione idrica tu quando hai con un grammo di carboidrati ti porti dietro 2,7 grammi di acqua quindi se togli i carboidrati è normale che perdi peso cioè non è un segreto è abbastanza si sa questa cosa il punto viene dopo che solitamente chi fa questi approcci ferrei perché sono ferrei poi dopo non ci sta più dentro e ricomincia a mangiare tutto quello che mangiava prima di carboidrati e riprende peso anzi poi so anche di più di prima perché ha perso il muscolo come ci fa ad evitare con il reset metabolico anche qui ho fatto un video dove ti spiego che cos'è comunque il reset metabolico vuol dire andare a reintrodurre gradualmente piccole quote di carboidrati in modo che uno il fisico si adatti quindi non vai a prendere il grasso l'acqua persa due perché i carboidrati poi sono fondamentali per andare a fare massa muscolare il carboidrato è il primo marker tessutale dell'ipertrofia perché stimola l'insulina anche qui se le domande lasci un commento sotto comunque ho fatto un video come ti dicevo questo primo è già passato un mese per i successivi 90 giorni ci deve essere un aumento ancora più marcato di carbo quindi si passa una dieta high carb perché come ti dicevo fondamentale questo per mettere massi infatti come vedete la foto il punto vita è passato a 80 cm ma anche a livello muscolare ora non è segnato ma si vede bene dalle foto vedi come ad esempio il braccio è più è più pieno è più definito mi sembra che in questi 4 mesi comunque questa persona abbia preso non mi ricordo se un centimetro e mezzo di braccio adesso ce l'ho scritto comunque cioè vedi le foto parlano ci vuole una cosa molto ingegnerizzata molti scoccia se stare dentro degli schemi quello che noi facciamo è avere un schema però essere più flessibili possibili cioè l'obiettivo è rigido non si cambia nel senso che io parto da qui voglio arrivare qua in un modo o nell'altro ci arrivo magari cambio strada cioè durante il percorso cambio via c'è che ci mette di più che ci mette di meno però se seguo i passi gli step fondamentali lì ci arrivo perché è vero che ognuno di noi è diverso è unico ma i principi fondamentali su cui madre natura ci ha fatti sono quelli uguali per tutti ok ok a questo punto concludiamo qui vedi il percorso formula ectomorfo che anche qui è stato seguito ti lascio sotto il comunque come avere informazioni riguardo questo percorso personalizzato e ora andiamo alle conclusioni quindi cosa abbiamo visto oggi cosa ti porti a casa allora ti porti a casa che hai visto che la fisiologia cambia dai 20-40 anni l'abbiamo visto all'inizio se non te lo ricordi torna indietro riguarda il video per gli appunti tanto è qua per te poi abbiamo visto tre punti cardine di metodologia dell'allenamento a 40 anni principi sono quelli a 20 anni 40 anni sono quelli ma c'è un cambio di fisiologia che determina un conseguente adattamento anche della metodologia dell'allenamento in particolare i punti sono tre sono tre ricordi valli a vedere torna indietro poi abbiamo fatto un esempio di scheda di allenamento in palestra a seconda appunto di questi principi di metodologia che abbiamo visto abbiamo visto come affiancare tre strategie alimentari come deve essere l'alimentazione per essere sostenibile da abbinare quattro integratori utili a 40 anni poi un caso studio di quattro mesi apro parentesi che non te l'ho detto nel caso studio che abbiamo visto nell'ultima fase di 90 giorni la persona ha utilizzato sia le proteine in polvere in particolare mi sembra proteine in polvere vegetale perché comunque era vegetariano quindi del pisello comunque ci ho fatto un video anche qua con set tipi di proteine vegetali ti lascio il link così te lo vedi e poi la creatina penso che abbia utilizzato creatina sì perché la creatina anche qui ho fatto un video molto preciso questo è utile in questi soggetti che hanno difficoltà ad aumentare muscolarmente perché la creatina uno dà un pochino più di energia quando ti allini due con la ritenzione idrica attenzione controllata intramuscolare aiuta poi ad aumentare la massa muscolare comunque poi ci ho fatto un video se hai domande dubbi nel percorso formulectomorfo lo trattiamo e si è seguito su questo quindi puoi stare tranquillissimo quindi noi per oggi è tutto ci vediamo nel prossimo video mi raccomando iscriviti al canale e ti ringrazio per l'attenzione ciao da Mattia